Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. 14 febbraio, giorno di San Valentino. Buongiorno a tutti e in particolare oggi a chi sta vivendo una bella storia d'amore. Agli altri auguriamo di incontrarla presto. Venendo a noi, le prossime elezioni europee di giugno dominano ogni giorno di più le cronache internazionali. E l'Italia in questo frangente è uno dei paesi maggiormente sotto i riflettori. Perché Giorgia Meloni, la nostra leader che 15 mesi dopo il suo ingresso a Palazzo Chigi riesce a tenere praticamente inalterato il consenso che la portò al governo, sicuramente sarà fra i protagonisti assoluti di questa tornata. Non solo l'Italia, ma tutta l'Europa si sta progressivamente spostando a destra. E proprio Giorgia Meloni, con la credibilità acquisita negli ultimi mesi, sarà con ogni probabilità in grado di dare le carte. Già da oggi, anche se senza alcuna particolare investitura, la leader della destra dell'Europa intera è lei. Basti vedere, per esempio, come è riuscita a convincere Orbán a votare anche lui per i finanziamenti all'Ucraina. Ciò premesso, ecco che Reuters, da Londra, dedica un servizio al suo principale contendente, che, badate bene, non è la capa dell'opposizione, la Schlein, bensì il suo alleato di governo, Matteo Salvini. Titolo del servizio, il leader di estrema destra, Salvini, lotta per sfuggire all'ombra della Meloni. Un'inchiesta molto approfondita, che vi cito qui per sommi capi, il resto lo potrete leggere nel link allegato alla newsletter. Considerando che, rispetto all'ultima tornata del 2019, Salvini e la Lega scendono da un 34% incassato a un 8-9% stimato oggi, scrive Reuters, cosa che era del tutto prevedibile, il leader, che nel frattempo non è cambiato, si è spinto sempre più a destra su questioni come la criminalità e i rapporti con Bruxelles, senza che questo, tuttavia, gli stia dando maggiori consensi. Uno spostamento a destra, che peraltro ha causato e sta causando un serio malcontento all'interno della Lega stessa. Lui cerca di stare tutti i giorni sui giornali con posizioni sempre più estreme, mettendo peraltro in imbarazzo la stessa Premier, della quale è alleato. Addirittura, smettendo il suo ruolo di Vice Premier, nelle ultime settimane è apparso quasi un politico dell'opposizione, come si diceva, sostenendo con entusiasmo le posizioni degli agricoltori. Nonostante una delle loro lamentele riguardi proprio la decisione del governo, quello di cui lui fa parte è la decisione di rimuovere le agevolazioni fiscali sull'agricoltura. Salvini, ancora Reuters, che scrive, sta conducendo la stessa campagna elettorale del 2019, che allora fu un successo, ma i tempi sono cambiati. All'epoca la priorità era la sicurezza, la lotta agli immigrati. Oggi, per gli italiani, la priorità è l'emergenza sanitaria, molto più stringente. Però lui continua a parlare degli immigrati. E cita ancora l'agenzia britannica, la cosa che ha creato il più grosso mal di pancia al partito recentemente è stata l'ipotesi di candidare alle elezioni europee il generale Vannacci, il generale Vannacci, quello del libro Il mondo al contrario, paracadutandolo contemporaneamente ai vertici del partito. Quell'uomo non ha niente a che fare con i nostri valori, dicono i dirigenti leghisti, e il fatto che abbia venduto 200.000 libri non significa che potrà portare 200.000 voti. Anzi, paradossalmente, dicono sempre, i vertici leghisti ci farà perdere sostegno. L'articolo si chiude con la previsione che l'anno prossimo, quando scadrà dalla presidenza della Regione Veneto, Luca Zaia sarà quello che gli contenderà il posto al vertice del partito. Ora, un brutto rapporto sull'antisemitismo. Titolo, l'odio verso gli ebrei, è molto più alto in Italia nel 2023 rispetto l'anno precedente. Il titolo è DJNS, piattaforma di notizie internazionali su Israele e sugli ebrei nel mondo. E il rapporto ridatto dalla Fondazione per la documentazione dell'ebraismo rivela che solo negli ultimi tre mesi, dopo il 7 ottobre, in Italia si sono verificati 216 episodi di antisemitismo conclamato, 454 episodi considerando l'anno intero, quindi molti di più quelli dopo il 7 ottobre. E dopo gli atti terroristici commessi da Hamas in quella data, scrive il rapporto, si è verificato un ritorno radicale a un clima simile a quello del 1982 durante la Prima Guerra del Libano, quando l'Italia conobbe la sua più grave ondata di antisemitismo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Atti, la cui maggior parte, è rappresentata da diffamazione e insulti anche sui social media e nei discorsi pubblici, benché dopo il 7 ottobre siano cresciuti gli atti diretti, quelli diretti alle persone offline, come le scritte sui muri, nei luoghi frequentati da ebrei, il danneggiamento delle loro porte di casa, aggressioni verbali contro gli studenti nelle scuole. La stessa solidarietà degli italiani verso gli ebrei dopo l'attacco del 7 ottobre si è dimostrata di brevissima durata e già dal 10 ottobre sono cominciate le manifestazioni settimanali contro Israele con le bandiere bruciate e tutto il resto. Il rapporto si conclude con la constatazione che molti italiani hanno una visione distorta della comunità ebraica in Italia. Infatti, in un sondaggio SVG, il 64% degli intervistati ha stimato la consistenza degli ebrei in Italia tra 500 mila e 2 milioni di cittadini, mentre la realtà è che sono in 30 mila. Argomento questo, come sapete, è tornato di grande attualità anche sul finire del Festival di Sanremo con le proteste dell'ambasciatore israeliano alle parole di Gali, di Eros Ramazzotti, di Dar Gendamico che sul palco avevano invocato un cessate il fuoco ed è su questo che la German Press, la principale agenzia tedesca, riporta l'affermazione di Tajani, il capo della nostra diplomazia, il quale ha detto che Israele sta usando una forza sproporzionata a Gaza. Ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con la massa, detto il nostro vicepremier, sottolineando che il premier Netanyahu dovrà fare di più. Parole tanto più importanti, considerato che in questi sei mesi l'Italia detiene la presidenza del G7. Abbandoniamo la politica, Passiamo alle scoperte scientifiche che sono quelle che di solito ci inorgogliscono. È stato rinvenuto in Italia un micrometeorite con quasi cristalli, uno dei più rari al mondo. Una notizia particolarmente importante che è stata rilanciata anche dall'altro emisfero, da Infobae. Scrive l'attestata argentina che si tratta del terzo meteorite rinvenuto sulla Terra con questo tipo di leghe metalliche e il secondo con quasi cristalli di origine naturale. L'annuncio è stato dato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di una strana e minuscola roccia extraterrestre molto 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 piccola rinvenuta sul Monte Garigliano in Calabria da un collezionista che stava cercando oggetti nel terreno ed è stato colpito da una luminosità metallica quantomeno insolita. La conferma è stata data da un team congiunto delle università di Firenze e di Napoli. E rimanendo in Argentina, ma scendendo molto più a livello terra-terra, trovo la confidenza, fatta al settimanale El Confidencial, di Sascha, ragazzo di Buenos Aires che dopo essere stato più volte in Spagna si è inoltrato fino in Italia, dove ha fatto alcune scoperte che gli hanno cambiato la vita. Come che nei bagni, oltre ai bidet, è facile incontrare un filo appeso dentro la doccia con una chiave rossa all'estremità. Non ha potuto fare a meno di tirarlo e si è subito trovato gli albergatori in camera, giustamente allarmati. Poi ha scoperto che in Italia circolano auto molto vecchie e chi si può comprare una macchina usata anche per 500 euro. Ma dove, osata quanto, mi chiedo io. Ma la cosa che lo ha sorpreso più di tutte sono le macchinette che distribuiscono l'acqua per riempire le bottiglie e le borracce all'ingresso anche dei piccoli paesi. Nella serie gli italiani fanno anche cose buone. San Valentino, dicevamo, e chiudo con il New York Magazine, il cui periodico The Strategist consiglia di regalare a San Valentino appunto le ballerine Marsorelli. E la parte che ci riguarda che riguarda l'istretto italiano è che queste scarpette in velluto tipo espadrillas che si chiamano friulane sono state lanciate sul mercato statunitense da poco più di un anno dalla vulcanica imprenditrice italiana Valeria Vandelli Campello e oggi vanno a ruba nonostante un prezzo che possiamo definire importante quando si dice l'orgoglio del Made in Italy. Buon San Valentino a tutti ci sentiamo domani.